Le aziende agricole dovrebbero essere le cellule fondamentali della società in cui si vive, cioè dovrebbero tutelare e promuovere la biodiversità esistente in questi luoghi ed essere quindi il baluardo dei territori che si vive. Il ruolo fondamentalmente che cerchiamo di portare avanti come aziende agricole è questo, siamo presuntuosi, ma tentiamo di vivere la società penetrando in tutti i suoi strati possibili, confrontandoci con le istituzioni, con la politica e cercando di portare avanti il lavoro duro dell'agricoltura. Credo che l'innovazione sia un modo di fare delle cose che diano qualcosa in più alla società e alla comunità. Sia fondamentale mantenere una certa etica nel farla, sostanzialmente l'aspetto fondamentale è che deve dare qualcosa in più alla società. Per me l'innovazione sociale è ricreare comunità, ricreare comunità perché credo che sia interessante ritrovarci e riprovare a lavorare insieme e quindi a vivere insieme. L'innovazione oggi è rendere contemporanee alcune pratiche del passato, ancora resistenti nelle periferie esistenti e resistenti nelle periferie rurali. Parlo di pratiche di solidarietà, di pratiche conoscenza e competenze, di pratiche agricole, di artigianato. E quindi tragettare questi saperi nella contemporaneità, non farlo in maniera nostalgica, non inseguendo i belli tempi di una volta, ma contaminando le nostre comunità, che hanno nel loro DNA delle potenzialità di progresso autoctone. L'innovazione in questo momento è renderci partecipi di nuove modalità di vivere, che siano sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale. Quindi considerare in tutto quello che facciamo i risvolti sociali, i risvolti ambientali che le nostre azioni provocano. Quindi oggi per me l'innovazione, per esempio nel settore in cui mi occupo, quindi dell'agricoltura sociale, è essenzialmente fare produzioni in maniera sostenibile e fare durante queste produzioni anche attività di inserimento sociale e lavorativo di persone che vengono solitamente marginate alla nostra società. Quindi nel momento in cui riesco a fare queste due cose, penso di mettere in piedi dei fenomeni che sono altamente innovativi. Riusciamo a smuovere coscienza, riusciamo a tirare attenzione su determinate tematiche che solitamente l'istituzione non prende in considerazione.